Ciao lettrice e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi parliamo di un argomento abbastanza spinoso perché infatti affrontiamo il tema del book influencing e guida un po' all'hype di un lancio di un libro perché so che il mondo tendenzialmente si divide in due grandi filoni da un lato finalmente qualcuno che dà dignità ad un'uscita la promuove, ne parla, cerca di sostenere questa uscita grazie perché so che è uscito questo libro e dall'altro lato chi dice basta tutto questo hype, mi viene il vomito non vorrò mai più leggerlo, ma visto che dopo vi spiegherò alcune cose insomma vorrei anche affrontare lato book influencer in una guida che io chiamo per i vecchi di merda che è il mio hashtag più famoso su Instagram ovvero tutti quelli che cercano di remare contro il marketing online e il marketing digitale e come funziona, perché funziona e perché è ora che la smettiate di dire che non serve a niente che i social non servono a niente perché ve lo dico io? non è vero che ve lo dico solo io, ve lo dicono tutti però questo continuo remare contro detto ciò, io perché sono arrivata a fare questo video? perché spesso mi trovo sotto i miei video dei commenti ah questo libro mi ispira un sacco, ho la tua recensione, mi piace però ne ho sentito parlare troppo non c'ho voglia di leggerlo e lì proprio mi si chiude la vena e io devo contare fino a 10 per dire ok, ma se mi hai detto che ti è piaciuto, se mi hai detto che ti interessa, ti ispira, ti intriga qual è il problema? ma ora infatti ho dovuto scrivermi tutti i vari passaggi per poter farvi un discorso completo che affronti un po' tante questioni da parlare insieme questa è un po' una guida anche al book influencing, al marketing digitale come funziona per tutti, for dummies, for case editrici che magari hanno smesso di fare i vecchi di merda for noi consumatori, perché io comunque prima di essere un book influencer sono un consumatore una consumatrice e quindi insomma parliamone insieme perché faccio questo video? perché immagino che molti di voi lo sapranno, visto che ogni tanto è saltato fuori sul mio canale io lavoro in pubblicità, prevalentemente nasco come fotografa ma poi la mia identità si è evoluta nel corso del tempo acquisendo nuove competenze e io ora lavoro come art director, strategist e creativa nell'ambito digitale e lavorando in pubblicità ho modo di conoscere abbastanza bene sia le attività che si possono svolgere online, i loro meccanismi ma anche trovare dei, insomma quello che faccio io è trovare i modi in cui questi possono essere efficaci e decodificarli, era bellissimo comunque, decodificarli in immagine quindi penso di avere un pochino di esperienza nell'ambito e quindi sono qui a parlarvene, sia da un punto di vista di chi consuma libri questa è forse l'intro più lunga del mio canale e penso di averne fatte davvero lunghissime e dall'altro lato anche un po' vedere da book influencer che sta con un piede in due scarpe cioè lato case editrici e le mie esperienze, cosa mi hanno insegnato e dall'altro anche da book influencer ciò che ho visto e ciò che penso sia corretto per lanciare, parlare di un libro, di una nuova lettura spero che si capisca, è un discorso complesso e forse sarà più chiaro parlarne invece che continuare a fare questa intro quindi affronterò questioni di incompetenza, resistenza, ma non quella bella che piace a noi e questioni generazionali perché questo è un discorso molto lungo e complesso parto facendovi una serie di domande ovvero siamo noi dei consumatori responsabili dei prodotti che acquistiamo, che leggiamo e che vogliamo leggere parlo da persona che su queste cose ragiona molto perché comunque la parte del consumo, la parte dell'acquisto per me è qualcosa che fassi parte del mio lavoro ma è anche una cosa che dal punto di vista umano e etico cerco di fare sempre in maniera più consapevole non che questo sia poi sempre vero, non che questo sia poi sempre certo eccetera è difficile avere un consumo al 100% consapevole però secondo me e soprattutto negli acquisti riguarda i libri, riguarda la cultura, riguarda questo ambito noi siamo i primi attori in quanto consumatori che hanno un potere enorme tra queste domande che ci possiamo porre quando ci appropriamo ad un acquisto ci possiamo chiedere, ci informiamo sui prodotti che compriamo e con prodotti intendo i libri che compriamo proviamo a renderci conto se più o meno, pubblicità o meno, una cosa può fare per noi mettiamo quindi in campo un'attività di consumo attivo quindi insomma adottiamo dei processi che non ci fanno rendere solo conto Dio bello, bellissimo perché esteticamente è una bellissima veste ma magari il contenuto è qualcosa che effettivamente può fare per noi, ci può intrigare possiamo scoprire cose nuove grazie a un volume o piuttosto che un altro però allo stesso tempo quanto è nostro compito cercare quelle informazioni che ci rendono consumatori consapevoli e quanto invece dovrebbe dipendere da chi crea, distribuisce e vende il prodotto e secondo voi è normale che la maggior parte delle informazioni riguardo libri, prodotti editoriali eccetera sia lasciato nelle mani dei book influencer? è un compito che ormai viene sempre di più delegato ai blogger, delegato ai book influencer in generale o comunque sempre e solo a degli approfondimenti esterni prendiamo infatti un attimo in considerazione come vengono lanciati libri che hanno per ogni casa editrice, ogni libro sono mondi a parte, è ovvio però quante volte ci capita magari di cercare delle informazioni sul libro che ci incuriosisce di cui magari abbiamo sentito qualcuno parlare, abbiamo visto una foto abbiamo letto un trafiletto da qualche parte su un articolo eccetera eccetera e ci rendiamo conto che se vai sul sito della casa editrice c'è la trama, tre righe e basta che non ti dicono niente, non ti approfondiscono nulla dall'altro lato non trovi mai le informazioni, la reperabilità, le tematiche qualcosa che insomma possa guidarti in un acquisto che da un lato è anche normale devo dire perché ci sta che devi incuriosire la persona, non andare proprio nel dettaglio a sbrodolare tutto però spesso diventa davvero difficile come consumatore trovare le informazioni per poter effettuare o meno un acquisto, per poter scegliere anzi se effettuare o meno un acquisto e prendiamo un attimo in considerazione la pubblicità che viene fatta di questi prodotti e anzi forse più che pubblicità, perché sarebbe molto gentile da parte mia chiamarla pubblicità chiamiamo solo diffusione e blanda promozione di questi prodotti sarò molto cattiva, lo so me ne rendo conto infatti prima partiamo da questo, poi andiamo a bastonare le case editrici infatti io prenderei in considerazione un attimo quello che facciamo noi nei confronti della pubblicità e con noi intendo noi consumatori, non noi book influencer dopo ne parliamo di quella parte lì che cos'è questa pubblicità, che cos'è questa promozione, questa diffusione di questo contenuto che forme assume, che azioni compie, cosa ci comunica in che modo è uno strumento utile per noi e perché invece dall'altro lato la nostra presenza sul digitale sulle piattaforme social, ma non solo è così estremamente importante e da chi queste cose le fa anche ve lo giuro, voi non potete capire quanto potere avete nelle vostre mani quanto potere noi abbiamo in quanto consumatori ne abbiamo sempre di più quando siamo dei consumatori attivi e mai passivi quando siamo partecipi delle iniziative quando diamo dei feedback quando abbiamo delle reazioni riguardo a ciò che ci viene proposto qualsiasi esse siano che siano reazioni attive quindi un commento, un like, una condivisione un entusiasmo magari che ci scatena o anche rabbia perché c'è anche la sensazione negativa che è contemplabile ovviamente e quanto questo influenzi potenzialmente anche l'editoria e dico potenzialmente perché dall'altra parte bisognerebbe trovare un qualcuno che dialoga con queste community con queste reazioni e sappia interpretarle e ahimè, no, non ci siamo neanche per sbaglio insomma, noi in quanto consumatori di questi prodotti possiamo sicuramente determinarne in maniera potenziale ovviamente il successo, l'insuccesso capire anche se qualcosa è giusto che sia per noi invece non fa assolutamente per noi perché abbiamo tutti i gusti diversi siamo attratti da cose diverse poi ci sta che magari un libro che ha tutte le premesse per piacerci una volta letto non ci soddisfa magari non ci piace lo stile non ci piace come è impostato tutto è lecito non c'è nulla di sbagliato in fondo i libri non sono una scienza i libri hanno delle cose che vanno sicuramente codificate altrimenti non esisterebbero tutti gli studi a riguardo non ci sarebbero dedicate insomma, pagine, pagine, fiume, fiume, fiume di persone che hanno dedicato la loro vita alla letteratura non solo chi scrive ma anche chi elabora ciò che è stato scritto e quindi insomma noi in quanto consumatori in primis possiamo sicuramente richiedere informazioni su questi libri più specifiche che evidentemente non sempre traiamo perché io sfido qualcuno a cercare e sapere quando esce un determinato libro in Italia e penso solo al confronto con le case editrici americane inglesi e anche in Germania già a giugno si sanno più o meno tutte le release tutte le varie nuove uscite che avverranno almeno nella prima metà e non solo dell'anno successivo noi in Italia se 20 giorni prima scopriamo la data di uscita di un libro possiamo baciarci i gomiti e addirittura se noi sappiamo che un libro è uscito è un grande risultato e per me è troppo poco perché è stupido dal punto di vista di digital marketing il non sapere rendere sempre meno consapevoli sempre meno informati i consumatori cioè noi che compriamo libri è qualcosa di disarmante è la strategia peggiore della storia non che per forza tutto debba essere svelato ma lasciare tutti un po' nello scuro nella trepidazione ai consumatori fondamentalmente non frega niente perché dicono ok non so che esce chi se ne frega non risparmi i soldi non lo comprerò o forse lo comprerò chissà quando ma per le aziende invece è un problema non che sia un problema del consumatore ovviamente se l'azienda ha un problema ok? su questo ci arriviamo nel senso che se l'azienda ha un problema non deve essere il consumatore quello che si sbatte a cercare le informazioni non deve essere il consumatore quello che cerca il modo di tirarle fuori e qua si inseriscono un po' i book influencer in pratica i book influencer in qualsiasi forma essi siano che fossero blogger bookstagrammer youtuber e chi ne ha più ne metta hanno diciamo fatto una sorta di cuscinetto in questi anni tra un'editoria che fondamentalmente li tratta come dei poveri dementi li tratta ci tratta come dei poveri dementi da un lato non serviamo assolutamente a nulla dall'altro però tieni questo libro così ne parli insomma perché siamo tutti cuori di leone e soprattutto siamo coerenti dall'altro lato però noi book influencer abbiamo fatto informazione su alcuni prodotti editoriali e li abbiamo promossi gratuitamente in maniera ovviamente personale perché il rapporto che io ho con voi è sicuramente diverso da quello che i miei altri colleghi hanno con le loro community non tutti hanno delle community ma fondamentalmente questa è un'azione che facciamo noi personalmente perché siamo spinti dalla passione per la lettura che siamo spinti da diverse motivazioni c'è chi invece parte già volendo fare l'influencer che ragazzi fare l'influencer in editoria i soldi proprio vi fanno schifo cioè andate sulla moda sul make up non fate i libri cioè è stupido non ci sono soldi in questo ambito l'editoria è in crisi da millenni e quindi insomma noi abbiamo fatto questa sorta di cuscinetto dove fondamentalmente le informazioni sono state date non dalla casa editrice non da chi produce questi contenuti ma fondamentalmente da noi siamo stati i veicoli per riuscire a spingere più informazioni più simili su certi prodotti addirittura se non fossimo stati noi moltissimi moltissimi libri in uscita non si sarebbero neanche mai conosciuti nessuno sa che è uscito questo insomma visto che già viviamo in un'epoca dove c'è una bulimia totale di titoli dove continuamente escono titoli ci sono sempre meno lettori è assurdo pensare che buttiamo 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 fuori continuamente titoli e poi nessuno sa che questi sono usciti cioè è un controsenso più che totale ovviamente c'è qualcosa che si scontra adesso però vado ad analizzare anche l'altra faccia della medaglia ovvero quando quei pochi perché sono pochi ragazzi i titoli che vengono pubblicizzati ricevono troppa attenzione e con troppa adesso andiamo un po' ad analizzarla perché vi do il mio parere dal punto di vista pubblicitario e quindi magari vedere che quei 10-15 titoli che in un anno le case editrici diverse tra di loro cercano un pelo di spingere vengono percepiti come fastidiosi oddio ne ho sentito parlare da tutti non ne voglio più sentire parlare basta non lo compro magari mi interessa e non lo voglio leggere oppure visto che ne parlano tutti a me quel titolo non interessa quindi qua io mi voglio mettere nei vostri panni purtroppo io ho l'opinione completamente contraria ma quello è perché a me il mio lavoro piace e quindi penso che su questi libri spinti durante l'anno forse di decenti ce ne sarà una per due però insomma quando vedo questi tentativi di promuovere spingere qualche uscita cosa che le altre uscite invece non hanno alcun tipo di riguardo cioè non vengono nemmeno calcolate cerco un attimo di mettervi nei vostri panni oppure quando ah aveva tutto questo hype l'ho letto e non era niente di che non era assolutamente meritevole di hype eccetera eccetera qua chiediamoci un paio di cose che aspettative abbiamo noi verso questi libri allora perché quando ci sono queste campagne quindi quando alcuni libri ricevono hype noi ci sentiamo infastiditi da questa pubblicità da questa promozione perché pensiamo che sia troppa quindi la frequenza è fastidiosa perché magari tutte le persone che seguiamo parlano solo di quello che anche lì vabbè dall'altro lato queste aspettative che noi ci siamo create su questi prodotti che magari acquistiamo già però partendo prevenuti perché troppo hype sono realistiche cioè ma soprattutto quali sono perché secondo me troppo spesso noi non abbiamo le idee molto chiare riguardo alle nostre aspettative nei confronti di questo libro adesso faccio un esempio di una campagna che è stata gestita secondo me molto bene ha fatto sicuramente successo che è quella di Nevernight spesso ho sentito dire ah se parla solo di Nevernight ah se così ma poi Nevernight non è niente di che però a quel punto lì non è niente di che è un valore relativo secondo me Nevernight è un'ottima serie ma non è una serie per tutti che è ben diverso è una serie che può piacere o non piacere come fondamentalmente tutti i libri quindi perché allora l'hype è immeritato perché se ne è parlato troppo e a me non è piaciuto quindi automaticamente l'hype è immeritato me lo chiedo perché ad esempio l'anno scorso c'è stato il lancio di La Traversa Specchi ne hanno parlato tutti giustamente e quindi molti hanno detto no io non lo leggerò mai perché ne parlano tutti eppure è un libro che secondo me nuovamente è molto meritevole ma sicuramente non è una serie facile né per tutti e ve lo dice una che apprezza la serie ma ne riscontra un sacco di difetti insomma secondo me anche di queste aspettative di questo atteggiamento che noi abbiamo nei confronti dell'hype che vi dico io lavoro in pubblicità e a volte anche a me un po' infastidisce ma soprattutto perché a volte vengono gestite male le campagne sono sincera dall'altro lato forse anche questa negatività che noi proviamo nei confronti dell'hype fondamentalmente corrisponde ad avere idee molto poco chiare su quelle che sono le nostre sensazioni e quali sono i nostri gusti perché non è detto che se un libro viene nominato da tutti i book influencer per forza lo dobbiamo leggere perché noi ci dobbiamo informare su quel libro e probabilmente valutare se può essere una roba che ci piace o invece una roba che assolutamente non fa per noi un libro di cui si è parlato abbastanza in Italia forse neanche troppo poco è la corte di rose spine sapete che io non ho un'opinione pessima ma trovo che abbia il suo pubblico e assolutamente il suo pubblico lo apprezzerà anzi e io continuerò a leggere la Sarah J. Maas per farvi i video che vi fanno divertire assolutamente non mancheranno insomma ognuno dovrebbe in qualche modo secondo me che ami la pubblicità ami la promozione insomma ami vedere che alcune case editrici si impegnano per sostenere i propri volumi o che dall'altro lato invece proprio non possa voler vedere in alcun modo più di due persone che parlano dello stesso libro perché sennò automaticamente è merda insomma in queste cose noi dovremmo avere un atteggiamento in quanto consumatori molto consapevole cioè valutare le informazioni che ci vengono date su determinate uscite e determinati libri per poter poi elaborare un nostro pensiero al riguardo insomma e poi queste effettive campagne di promozione vi vengono sempre i brividi ogni volta che dico queste frasi che noi vediamo come vengono strutturate semplicemente mandando il libro allora ci sta che insomma visto che come nel make up vengono mandati i trucchi a tutti gli influencer non lo so come nel cinema vengono invitati i movie influencer cinema non so come si chiama in l'ambito vengano invitati magari alle prime cinematografiche eccetera eccetera come nell'ambito non lo so della tecnologia vengano inviati parti tecnologiche o fai da te quello che volete non è il mio campo non sono esperta ai techno influencer ok nei libri succede esattamente la stessa cosa le case editrici donano una copia a chi si occupa di letteratura e quindi fondamentalmente voi seguite me parte perché sono particolarmente simpatica però soprattutto perché parlo di libri magari o parlo delle tematiche di cui tratto su questo canale quindi magari a voi queste cose interessano e se io parlo di un libro o se io ricevo libri chiaramente ho più possibilità di avere un pubblico interessato io raga sono molto trasparente da questo punto di vista prima perché sono l'influenza più poraccia che la storia abbia mai conosciuto più inadeguata di tutto booktube bookstagram eccetera ma perché soprattutto non mi interessa farmi quell'aura da influencer figheira perché non lo sono e quindi vedendo anche l'altro lato cioè da chi sta dall'altra parte e chi sta in mezzo quindi insomma avendo tanti ruoli purtroppo in questo meccanismo mi piace viscerarle è una cosa che mi affascina fondamentalmente il mio lavoro consiste nel decodificare questi meccanismi e trovare il modo di aggirarli dirottarli cioè insomma è una cosa affascinante io sono una che è fondamentalmente interessata non so a tutte queste cose del motivo per cui mi piace molto il mio lavoro e lo amo e dall'altro lato mi ritrovo anche a essere in mezzo perché faccio anche la book influencer ma dall'altro sono una che ha sempre comprato libri e che compra talmente tanti libri l'anno che a me quelli che inviano sono penso il 20% dei libri che leggo in un anno perché a me non interessano tutti i libri che mi propongono per farvi capire anzi i tre quarti li rifiuto accetto solo quelli che fondamentalmente so che andrò a leggere mi interessano eccetera eccetera diciamo che quindi arrivati un po' a questo al tirare le fila su chi siamo noi come consumatori qual è un po' il ruolo del book influencer secondo me dobbiamo avere molto chiare il nostro consumo il tipo di consumo che noi facciamo di questi prodotti che non sono scritti nella pietra perché non c'è un giusto o uno sbagliato ecco ci sono alcune cose che sicuramente sono dei parametri inconfuttabili perché la grammatica non è opinione come non lo è la matematica anche se io lo sostenevo e insomma quindi alcune cose possono essere degli ottimi prodotti eppure farci schifo perché non fanno per noi altri prodotti invece fondamentalmente possono essere mediocri trash brutti eppure divertirci piacerci da morire intrattenerci salvarci in un momento dove siamo particolarmente tristi perché pensiamo ad altri insomma non c'è un giusto o uno sbagliato sui gusti però c'è invece un giusto o uno sbagliato su come noi ci approcciamo a quelli che sono le proposte che ci vengono fatte dall'esterno e da un lato passo alla parte noiosa ovviamente che è quella che riguarda le case editrici io da professionista del marketing sono sconcertata perché primo la cosa che vi dicevo prima fondamentalmente le case editrici non hanno delle vere e proprie strategie per l'approccio online mi viene da parlerò in generale ho stima del lavoro di due tre case editrici in Italia con cui collaboro peraltro per la loro attività digitale sul resto vi voglio bene pubblicate dei libri magari bellissimi ma il marketing è un'altra cosa o almeno dal mio punto di vista la comunicazione e il marketing sono tutta altra cosa ah ovviamente questo è un libro per farmi ancora più nemici e non lavorare mai più e non lavorare sicuramente in editoria però almeno ne siamo tutti consapevoli e come vi dicevo anche prima è assurdo che siano i consumatori finali a dover non so sbrogliare cercare si devono far venire sempre quella voglia di volerne sapere di più perché tranquilli che da parte delle case editrici voi non riceverete nulla in cambio sul sito un articoletto con la trama che è la stessa del retro copertina basta questo è ciò che vi è stato dedicato da parte della case editrice ma l'approccio al mondo digitale è molto diverso rispetto a quello della strategia tradizionale di lancio di un libro perché a me sembra che tutte le case editrici adesso ripeto tutte ma alcune secondo me lavorano benino potenzialmente potrebbero lavorare meglio ma lavorano benino diciamo che tutte le case editrici sembrano ferme al 2004 con la loro strategia digitale se non peggio ovvero che proprio combattono organizzano convegni dove viene detto che i social non servono a vendere libri perché li ho viste le vostre stories oppure negano o denigrano l'approccio digitale oltre ovviamente a quello che vi dicevo di nuovo e che ripeto spesso ovvero trattare i book influencer come dei poveracci e fondamentalmente dargli un croccantino ogni tanto ma noi non siamo dei cani cioè almeno sicuramente io sì ma non mi piacciono i croccantini i social e il web in generale vengono presi come approccio da bisogna vendere libri no? e quindi io uso i social uso il web per vendere libri se no non mi serve è complessa la questione come c'è il funnel di vendita nell'offline esiste la stessa cosa nel digitale e il funnel per chi non sa nulla di marketing è una sorta di percorso che compiamo noi come consumatori e dall'altro lato azioni che derivano da parte della casa editrice ovvero dell'azienda che piano piano ci costruiscono un percorso che sia di affezione che sia di proposte che sia di attività varie che ci portano sempre di più vicine a dire ok magari lo compro oppure beh magari stavolta non lo compro però magari mi avvicino magari mi affascino magari li seguo magari partecipo a un loro evento magari il libro lo ordino sono piccoli step adesso questo è veramente for dummies non prendetela seriamente se lavorate nel marketing o nella comunicazione questo è proprio per diciamo che se uno parte dal presupposto come i social servono a vendere libri quindi ti dico compra questo compra questo compra questo compra quest'altro e ti faccio vedere dieci volumi uno di fila all'altro che tu devi comprare consumatore tu consumatore mi mandi a cagare e hai perfettamente ragione perché i social non sono una vetrina pubblicitaria e basta i social come il web in generale serve da un lato sicuramente a vendere ma è diciamo l'ultima parte il social serve a creare una rete di relazioni sociali perché quella è la sua natura il social serve a stabilire delle connessioni serve piano piano a costruire un percorso insieme e io so che questa cosa non verrà capita e quindi io sto già impazzendo e morendo dentro perché devo stare calma i social a cosa servono? parliamo soprattutto dei social ovviamente a creare consapevolezza nel consumatore perché io penso che ogni volta che faccio una recensione ogni volta che vi racconto un libro ogni volta che vi parlo delle mie impressioni dall'altro lato sicuramente ho una risposta che è più informata più consapevole sicuramente rispetto a prima c'è chi può non averlo letto e decidere boh magari di dargli una possibilità oppure capisce che il libro non fa per lui o per lei chiaramente e non c'è nessun problema i social a cosa servono quindi? parlo dei social soprattutto perché sono lo strumento più visto negativamente addirittura girano voci che ci siano capi di comunicazione di aziende molto grandi che dicono io non credo in instagram io non credo in youtube ma non ci interessa cosa credi tu perché è come dire anche io non credo nella matematica ma la matematica non è un'opinione c'è chi studia c'è chi ci lavora c'è ok i social servono in primis a creare consapevolezza verso il consumatore perché che cosa fai? informazione fondamentalmente grazie al social puoi fare tanta informazione ma puoi fare anche intrattenimento e l'intrattenimento non è fine a se stesso l'intrattenimento è parte di questo percorso di cui parlavo prima infatti questo percorso sicuramente aiuta ad espandere il mercato se viene fatto bene se viene fatto con un approccio corretto e perché usare i social? perché attraverso i social si possono creare comunità di utenti e quindi potenzialmente di consumatori che lo possono diventare tranquillamente direi che si affezionano al brand che in questo caso è la casa editrice agli autori alla loro presenza online esattamente come fanno con noi cioè io penso di avere una community super bella perché siamo persone simili fondamentalmente ci siamo trovati è vero che io non sono un brand cioè si lo sono perché fondamentalmente lo diventi una volta che fai delle attività online però io non ho nulla da vendere cioè non devo vendere me stessa a voi perché farebbe ride mi do un pezzo di braccio 40 euro al chilo sono 40 kg dove voglio andare vabbè parte le cagate che regneranno sovrane in questo video però diciamo che i brand inizialmente sono spaventati ostacolati perché dicono eh ma non vendo eh ma non vendo direttamente ma perché non è per quello che devi usare i social sì ci arriverai a vendere ma dopo un percorso molto lungo allora non voglio scendere troppo nel dettaglio da un lato per non renderlo noioso a voi dall'altro perché le cie che sì è vero che sono abituata a non pagare nessuno e a sfruttare gratuitamente qualsiasi persona incontrano però insomma le consulenze si pagano c'è la mia mail sotto se siete interessati ad approfondire scrivetemi una mail no a parte le gag perché veramente penso di aver toccato epicità di deficienza in questo video come mai prima però mi piacerebbe davvero aprire una discussione però mi piacerebbe davvero aprire una discussione su questo tema in maniera molto ampia e molto onesta sia con voi e con me che siamo consumatori sia da un lato con i book influencer il loro ruolo e quello cui servono sia dall'altro lato le case editrici e qual è il loro approccio e perché noi siamo tutti parte dello stesso ciclo parte dello stesso bollierone in fondo perché le case editrici combattono un sistema che è collaudato l'unico che si basa su dati reali certi misurabili al contrario dell'iniziativa offline che chiaramente non possono essere misurate se non forse alla fine dell'anno in termini di vendita e che tutto il resto del mondo ha già adottato in maniera massiccia da 7-8 anni allora noi viviamo in un paese dove purtroppo c'è uno scontro generazionale molto molto forte e si protrae da generazione in generazione cioè penso tra i miei nonni magari e i miei genitori c'era questo scontro generazionale no? c'è stato il 68 di mezzo c'è stata tanta roba in mezzo quindi sicuramente i miei nonni e i miei genitori avevano due visioni del mondo abbastanza diverse poi dall'altro lato ci sono i miei genitori e ci sono io che abbiamo degli approcci molto diversi anche se magari ci sentiamo più simili però è esattamente questa generazione no? che poi tra l'altro continuerà perché la mia generazione già vedo che continua ad attaccare i poveri stupidi ragazzi di 13 14 diciamo vabbè ma non arriveremo lì parliamo di chi è un po' più grande e su queste cose già è nel mondo del lavoro eccetera eccetera c'è proprio questa sorta di sempiterna lotta nel nostro paese che è proprio come la battaglia campale che alla fine non si consuma mai e continua ad avere questo trincea su trincea dove da un lato vediamo schierati quelli che sono da tempo in azienda che sono la memoria storica che sono chiaramente quelli con più anzianità all'interno delle aziende che hanno una formazione hanno un approccio hanno un tipo di esperienza e dall'altro lato le nuove leve chiamiamo che poi nuove ormai non sono più così nuove leve però c'è anche potremmo mettere anche chi accede in questo momento nel mondo del lavoro no e si approccia ovviamente alle case editrici o chi tenta di entrare in editoria in tantissimi magari studiano editoria poi dopo pochi anni lasciano perdere perché si rendono conto che no infatti la questione digitale ha messo davvero in crisi numerose figure dentro le aziende diciamo che più o meno ci sono degli over 50 ma anche degli over 40 in alcuni casi che sono fortemente contrari al mondo digitale all'approccio digitale perché da un lato non hanno fatto corsi di aggiornamento non utilizzano il web in maniera massiccia non stanno sui social non li capiscono non sono interessati a stare sui social che è lecito ovviamente e forse usano al massimo facebook ma poi magari anche no o twitter ah twitter si twitter usano twitter e quindi queste figure diciamo senior queste figure con esperienza si ritrovano a difendere questo loro fortino che è inespugnabile ovviamente e che impedisce alle figure invece nate nell'era digitale che sono cresciute con il digitale che vivono sui social che conoscono i meccanismi magari la mia generazione ne ha visto la nascita la crescita e l'affermazione mentre invece chi è nato dopo di me quindi penso a tutti quelli che sono in università adesso ne sono usciti da poco invece ne hanno visto solo l'evoluzione ma sono nati pienamente nell'epoca social che se ne possa avere un giudizio positivo o negativo non importa secondo me insomma c'è questo scontro generazionale tra figure con esperienza affermate nel loro campo sicuramente dentro le aziende che sono le case editrici e dall'altro quelli più giovani e insomma c'è questo scontro cosa porta? a impedire ai più giovani che sicuramente hanno più esperienza più pratica e più competenze nell'ambito web digitale di affermarsi come se le loro idee non fossero utili non fossero valide e soprattutto non avessero alcuna contingenza con la realtà come se quella che è la loro esperienza quello che è il loro approccio non fosse giusto perché no i social no e quindi in pratica ci ritroviamo in un mercato digitale che ha un sacco di potenziale ma che viene sempre di più ostacolato in primis infatti le aziende non comprendono i meccanismi del mondo web ma soprattutto del mondo social perché innanzitutto non hanno una strategia non conoscono in maniera approfondita e spesso neanche leggermente meno superficiale gli strumenti e quindi finiscono per navigare a vista ci sono sempre poche risorse dedicate all'ambito web all'interno delle case editrici e quindi tutto l'approccio comunicativo non viene rivisto infatti immaginate sono dieci anni che le case editrici mandano a tutti i booktuber i bookstagrammer i bookblogger soprattutto i bookblogger delle copie delle loro nuove uscite che è perfetto però mandano il libro stop quella è l'azione che viene fatta allora pensate a tutti quei libri che avete scoperto solo una volta che il libro era già stato pubblicato magari anche dopo diverso tempo e magari questa scoperta è avvenuta tramite un book influencer proprio perché è stato il booktuber il bookblogger il bookstagrammer a parlarvene e a dirvelo e qua arrivo al discorso serio perché noi siamo in un paese dove la digitalizzazione delle aziende è ferma al medioevo è indietro come non mai è veramente inadeguata la digitalizzazione delle aziende e l'approccio digitale delle aziende alle strategie web dal punto di vista del marketing fate conto che noi siamo degli inseguitori invece che anticipare o cavalcare un trend li iniziamo a proporre quando già ormai sono passati immaginatevi insomma pensate a tutte quelle aziende che fanno che ne so dei meme fanno una battuta di cose che andavano mesi fa oppure proposta di eventi proposta di cose da fare che non so in tutto il resto del mondo o in tutto il mondo del web si facevano anni fa insomma noi proponiamo cose che sono già passate di modo che sono inefficaci ovviamente adesso perché il web è costantemente in evoluzione oppure propiniamo per anni 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 le stesse identiche strategie e gli stessi identici meccanismi in modo in modo proprio pedisseco come se spostare leggermente l'approccio fosse qualcosa di destabilizzante però domanda banale per voi pensate quante cose sono cambiate solo dal 2015 solo a quanto si usava meno Instagram rispetto a quanto lo si usa ora pensate a TikTok banalmente che non c'era e ora c'è e ora è enorme pensate a YouTube quanto tutti lo consideriamo quasi un secondo canale tv e forse magari abbandoniamo sempre di più la tv perché magari abbiamo sempre con noi YouTube in giro per il mondo perché magari abbiamo sempre con noi il telefono quindi ci guardiamo qualcosa su YouTube penso ai ragazzi molto giovani che la tv non la guardano neanche per sbaglio però vivono la maggior parte della loro vita su Netflix sui canali di streaming e su YouTube venendo un po' poi alla guida per i vecchi di merda che è il mio modo gentile per dire che i vecchi di merda sono quelli che ostacolano l'evoluzione che proprio resistono fortemente no? e nasce sempre da una valvola di sfogo quindi insomma prendetela anche in maniera un po' simpatica non so come fatelo che vuol dire che non è che sono tutti vecchi di merda i vecchi di merda ma sono fondamentalmente vecchi dentro sono tutti quelli che ostacolano il cambiamento e che resistono sulle loro posizioni ormai vetuste ormai superate solo per il gusto di resistere e non in maniera sana la resistenza è una parola bellissima e può essere sanissima ma non è questo il caso davvero smettete di fare conferenze dove un personaggio X che non ha alcuna esperienza pratica in azienda in studi di pubblicità in agenzie eccetera dice che usare i social non serve e che non serve a vendere per favore strutturatevi adeguatamente dotatevi di un social media manager e di un reparto social e il social media manager non è l'ufficio stampa sono due professionalità diverse se vi rendete conto casa editrice che non siete in grado di sviluppare delle strategie adeguate perché non avete gli strumenti non avete il personale formato fatevi fare delle consulenze richiedete delle consulenze a chi ne sa sicuramente più di voi perché non potete essere oniscenti cioè io non so nulla di meccanica per l'amore per quello che porto la mia macchina dal meccanico perché sicuramente fa meno danni di quelli che potrei fare io su quella macchina è la stessa cosa quando ci si approccia al digitale se tu non hai le persone che lo sanno fare non improvvisare perché se io mi improvviso meccanico la mia macchina diventa probabilmente un reperto da museo archeologico cioè affidatevi a chi fa questo mestiere perché vi fa una consulenza dove può razionalizzare e strutturare la vostra strategia di comunicazione in modo che anche poi noi consumatori non ci rompiamo le balle dopo aver visto lo stesso libro senza alcun tipo di approfondimento raccontato sempre allo stesso modo in mano a 50 influencer perché davvero noi e mi ci metto insieme a voi siamo stanchi di sentire sempre la comodissima scusa eh ma in Italia non legge nessuno perché sì è vero in Italia leggono pochi ma è vero anche che se smettiamo di perdere dei lettori e cerchiamo anche di di trovarne di nuovi probabilmente qualcuno inizia a leggere probabilmente qualcuno continua a leggere eh infatti sembra quasi che questa scusa dell'eh ma in Italia non legge nessuno è una bellissima scusa per continuare ad allontanare i lettori perché tanto noi non cambiamo noi siamo fatti così casa editrice è così e noi abbiamo ragione ok buon approccio buona vita manca proprio una base di storytelling che dica chi siete che dica cosa volete trasmettere che riempia anche noi consumatori di entusiasmo lasciatemelo parlare molto così però che ci dia la voglia di approcciarci a voi di approcciarci ai vostri prodotti cioè vi serve un piano per farvi conoscere far conoscere cosa pubblicate e non fatelo solo a colpi di tweet perché non è abbastanza e poi soprattutto smettete di riempire il web di contenuti autoreferenziali perché non è quello l'approccio che si ha sui social il social non parla di voi parla di noi che è diverso cioè non serve solo mandare libri perché quello non costruisce nulla per la marca significa semplicemente tamponare una falla che tanto non verrà mai tappata insomma da un lato il succo è il seguente di tutto questo video delirante se siete arrivati fin qua io vi ringrazio perché lo so che poi mi infervoro però da un lato noi abbiamo dei libri che non ricevono alcun tipo di pubblicità nessun sostegno e poi ci si lamenta giustamente perché ah perché non lo sapevo ah perché non l'avete detto cioè penso a un caso eclatante come Circe di Madeleine Miller che non se ne è parlato penso che vabbè ma poi sta sulle balle perché Circe era il mio libro dell'anno scorso preferito un libro magnifico che nessuno ne ha sentito praticamente parlare penso a tanti casi eclatanti dove escono libri e boh chi ne ha parlato dove quando perché e tutti noi lo veniamo a sapere dopo penso anche che è uscito il terzo volume di The Winner's Trilogy ovvero The Winner's Kiss e voi lo sapevate? no e invece è una serie più che valida insomma da un lato non sappiamo le cose e poi ci lamentiamo giustamente da consumatori perché cavolo avevamo delle buone occasioni e non le sfruttiamo poi dall'altro lato ci siamo sempre noi che leggiamo e che non riceviamo le informazioni adeguate e quindi non possiamo valutare in maniera approfondita se un prodotto ci può piacere o meno se è giusto spendere o no i nostri soldi perché fondamentalmente il succo è quello spendiamo i nostri soldi in questi prodotti è vero che un libro può non costare una cifra esagerata però insomma sono sempre soldi che noi dobbiamo rendicontare alla fine del mese fossimo tutti paperone e paperoni magari il problema è che tutti noi facciamo un po' i conti con il nostro budget e quindi insomma questa sensazione di non ricevere abbastanza informazioni ci fa sentire inadeguati e poi dall'altro lato vediamo una parte della comunità di lettori online o comunque di persone che sono insomma affascinate dal mondo insomma web del libro che al secondo post che parla dello stesso libro si inalberano e no basta hype in più ci sono le case editrici che in alcuni casi hanno imparato a lavorare bene Oscar Volt però perché l'hanno fatto? perché hanno creato una community? perché raccontano i propri prodotti? perché cercano di stabilire una relazione di avere una voce unica che racconti loro stessi tanto quanto racconta i propri lettori che li ascolta che li percepisce che non ci fa sentire come una parte di staccata no? come se non fossimo utenti attivi e parte integrante del processo e poi ci sono quelle altre che fanno i negazionisti del digitale bene tanto non serve insomma sono tante anime tutti diversi e noi dobbiamo cercare di insomma muoverci in questo mondo molto complesso che è il digitale ripeto io da un lato sono una figura un po' strana perché da un lato lavoro in questo ambito poi però sono anche una consumatrice come tutti noi e dall'altro lato ancora invece sono anche una book influencer oraccia ma sono pur sempre una book influencer perché comunque siamo 9000 e passa sul canale insomma siamo un po' cioè possiamo girarci attorno però sono 9000 persone ripeto riempiamo un palazzetto piccolino di provincia brutto birrette vabbè insomma io mi trovo un po' a metà quindi vedo anche tanti lati della medaglia però da un lato io come professionista cioè vedo queste aziende e aspetto tipo non so come dire il fallimento il declino perché un po' se la cercano anche questo atteggiamento spavolto cioè questo negazionismo del no al web non serve a niente bene fallite non vediamo l'ora e dall'altro però invece vedo così tanto potenziale buttato nel cesso che mi dà un fastidio esagerato cioè insomma io vorrei bruciare tutta quell'incapacità quella presunzione e quell'inadeguatezza che vedo però da un lato sono anche una consumatrice ed è giusto che io come consumatrice pretenda di ricevere le informazioni più adeguate quindi niente sicuramente non ho fatto il punto di tutto e sicuramente a un certo punto si è un po' persa questa delirio e sono certa che a un certo punto si sia perso anche un po' il filo di tutto questo perché mi arrabbio mi arrabbio molto quando parlo dal punto di vista professionale delle aziende meno ovviamente verso i consumatori perché ci sta che uno possa avere fastidio provare fastidio quando si sente ripetere continuamente la stessa pubblicità la frequenza effettivamente può essere fastidiosa però ho visto anche tanti invece partecipare relativamente anche alle varie campagne di lancio ripeto penso a Nevernight che in alcuni ha sicuramente suscitato un grandissimo fastidio ma non ho visto mai la gente così carica ed è bellissimo dal mio punto di vista per dirvi e quella credo sia una delle campagne migliori per un lancio di un libro che fino a un anno fa nessuno sapeva cosa fosse o lo sapevamo in dieci ecco io vi lascio un po' ragionare su questo video perché è una discussione molto aperta e molto ampia perché sono curiosa da un lato di capire qual è il vostro tipo di approccio come vivete queste cose se siete infastiditi se da un lato non so anche voi avete studiato certe cose vi occupate di comunicazione e marketing insomma tante tante cose compongono tutto questo video e questo ragionamento e non so darvi la soluzione precisa perché la soluzione precisa sarebbe sicuramente avere un approccio molto più ampio degli investimenti economici importanti sicuramente ed è anche difficile mi rendo conto riuscire a far coesistere tutte queste capacità tutte queste personalità anche dentro un'azienda però insomma perché c'è questa avversione per il digitale da un lato per le aziende ma anche spesso anche da parte dei consumatori e noi come consumatori quando percepiamo fastidio quante domande ci facciamo su questo questo fastidio che proviamo che è lecito ragazzi non è che dico che fate male ci sta perfettamente ad essere molto infastiditi da alcuni prodotti però ragionate sempre insomma il mio invito è sempre quello ragionate sempre su quello che vi viene proposto e se vi dà fastidio ragionate sul perché vi dà fastidio e quali informazioni avete su quel determinato prodotto ne avete a sufficienza volete approfondire ne avete gli strumenti ecco oppure magari le motivazioni che vi spingono ad essere infastiditi potrebbero essere altre non lo so forse è l'approccio di alcune persone che ne parlano forse è il modo in cui viene trattato insomma io non lo so non so darvi una risposta perfetta precisa però sono curiosa di sapere cosa ne pensiate e quindi niente io direi che per oggi è tutto perché ho sprolochiato abbastanza e spero che non sia venuto un video troppo demente ma che il punto fosse abbastanza chiaro ho cercato un po' di alleggerirlo perché sennò diventa una lezione di marketing e non è il mio cioè non è il mio modo di fare non mi piace però vorrei che fosse comunque un video interessante anche per chi non ne sa nulla e non basica e niente quindi niente questa è la mia guida per i vecchi di merda che ovviamente adesso youtube mi bloccherà il video perché ho detto troppe volte parolacce e niente ci sentiamo giù nei commenti e io direi che per il resto ci vediamo al prossimo video ciao